Ciao, bello a tutti! Negli ultimi due tutorial abbiamo visto front sweep e delle sue varianti di conseguenza oggi faremo back sweep ok, back sweep è praticamente un front sweep ma al contrario andiamo a vedere come funziona che passo sarà? il passo in questione sarà questo di conseguenza avremo sempre la nostra spazzata ma anziché partendo da davanti e andando indietro sarà da dietro arrivando davanti andiamo a vedere come funziona inizieremo da in piedi da qui appoggeremo un ginocchio a terra in questo caso il mio ginocchio sinistro da questa posizione cosa succede? andrò ad appoggiare le mie mani a terra e mi metto di qua da qui inizierò a disegnare un cerchio quindi inizierò a disegnare un cerchio con la mia gamba destra ok, proviamo di nuovo siamo in piedi appoggio il ginocchio inizio a disegnare un cerchio il mio cerchio continua una volta che la mia gamba arriva dietro cosa succede? scavalco la mia gamba continua e arrivo nella nostra solita posizione che tanto bene conosciamo ok, di nuovo da qui ginocchio a terra disegno un cerchio arrivo dietro scavalco la gamba passa e chiude ok, per renderlo più fluido cosa succederà? succederà che non ci sarà più un blocco ma da qui ci sarà un saltino quindi da qua la gamba arriva non si ferma scavalco scavalco e chiude proviamo di nuovo un po' più veloce da qua scendo la gamba arriva scavalco e chiude di nuovo scendo la gamba arriva scavalco e chiude ok per renderlo più comodo dovrò fare la stessa cosa ma senza girarmi del tutto ma rimanendo più o meno frontale ok a rallentatore scendo la gamba disegna il solito cerchio vedete che non sono del tutto di lato arrivo qui e chiudo ok proviamo qualche volta e scendo e chiudo e di nuovo e scendo e chiudo mi raccomando quando scavalcate rendete fluido questo movimento quindi da qui ci sarà il solito cerchio per chiudere sotto da qui posso ad esempio collegare dei sisi collegare six step proviamo ad esempio con un six step e scendo scavalco continuo un six step come al solito provate allenatevi e alla prossima bang